Nato a Cercola ultimo di sette fratelli trascorse la propria infanzia a Sant'Anastasia, trasferitosi a Napoli insieme alla sua famiglia, visse tra la riviera di Chiaia e Viale Regina Elena, il salotto buono della città, studente modello del liceo Umberto, sognava di diventare campione delle ringhe, il pugilato fu una passione che lo accompagnò per tutta la vita. Il primo approccio con l'arte lo ebbe grazie a suo fratello maggiore Vincenzo, che con velleità da regista lo istruiva nei panni di Caronte in una scenografia di sedie. A Catastate, a 18 anni si iscrisse all'università, frequentò medicina per un anno, poi passò a giurisprudenza, disciplina in cui si laureò. Nel periodo universitario, per pura curiosità intellettuale, fa le sue prime esperienze di palcoscenico con il teatro S, recitando i lavori di Beckett e Ionesco. Approfittava delle ore di studio per impostare la voce e perfezionare la propria dizione. Per interminabili pomeriggi e anni accademici, la famiglia lo udì declamare drammaticamente lunghi capitoli di storia del diritto e sequele di commi del codice penale, solo più tardi, dopo aver recitato per due intere stagioni, 1966-1967, 1967-1968, nella compagnia di Edoardo De Filippo, e dopo essersi laureato, finirà per riconoscere la propria vocazione di attore. Nel 1969 incontra l'attrice Cecilia Sacchi. I due recitano assieme in Le donne di Aristofane. Al teatro di Segesta, in Sicilia, con Cecilia si stabilisce un rapporto personale saldissimo. Coronato con il matrimonio, che si celebra il 14 ottobre 1972. È la nascita di Giovanna. Il 9 novembre 1974, trasferitosi a Roma, per qualche tempo si dedica ancora al teatro. Sarà in compagnia con Lauretta Masiero e i fratelli Aldo Giuffré e Carlo Giuffré. Poi con Gianni Santuccio, Gianrico Tedeschi e Mario Scaccia. Con Flavio Bucci, Stefano Satta Flores, Cristiano Censi e Isabella Del Bianco. Dopo l'esordio con Michele Placido. Indagine su una rapina per la regia di Gianpietro Calasso. Partecipa in televisione al primo ciclo. 1965. Della serie di telefilm Le avventure di Laura Storm. Con Lauretta Masiero. E due anni dopo. Nel 1967. La realizzazione de' La Fiera della Vanità. Sceneggiato televisivo diretto da Anton Giulio Maiano. Nel 1973. E nel cast del Picciotto di Alberto Negrin. È nel 1984 che la sua carriera artistica si arricchisce nuovamente quando viene notato da Peter. Brook, il quale gli propone l'importante ruolo di Ariuna nella colossale produzione teatrale del suo. Ma barata, il lavoro di ricerca e di formazione allo spettacolo lo porteranno, insieme con la compagnia internazionale del CICT di Brook, a viaggiare per tutto il mondo. Nutrendosi delle diverse culture e a prepararsi sia fisicamente che, spiritualmente a quella che sarebbe diventata la sua più importante svolta artistica. Dal punto di vista della critica ma anche da quello della notorietà, che da lì fino alla fine dell'epico tour mondiale del ma barata raggiunse il suo apice. Tornato in Italia, prende il posto di Michele Placido come protagonista della famosa serie televisiva La Piovra che, gli darà la popolarità, raggiunta grazie al ruolo di Davide Licata nelle fiction televisive La Piovra 5 e La Piovra 6. Al termine della Piovra 6 il personaggio da lui interpretato, Licata, muore, la scomparsa non era stata preventivamente annunciata ai media. Come invece era accaduto al suo predecessore Michele Placido nel ruolo di Corrado Cattani e Colse. Di sorpresa il pubblico che non era neanche a conoscenza delle condizioni di salute di mezzogiorno. Già malato, infatti, poco tempo dopo, Vittorio Mezzogiorno scompare a poco più di 52 anni il 7 gennaio 1994. Stroncato da un collasso cardiaco. In precedenza era stato operato per un tumore polmonare. La salma è stata inumata nel cimitero di Griante.